a lano grigio anche qui credo che sarà bene che vi mettiate un po un po più in qua perché credo ci siano parecchi soggetti mi fanno cenno che stanno entrando ancora poi li vedremo a muovere diremo tutto mentre prego intanto i terriers il terzo raggruppamento di prepararsi poi nel pre ring grazie basta così vedete secondo gruppo ai cani di tipo pincher schnauzzer molossoidi e bovari svizzeri vedo che la signora già fatto una pre selezione al centro del ring grazie a tutti gli altri grazie mille possono andare sempre signor la rocca che giudicherà i terrier per cui lo prego di andare nel pre ring trasfilando un boxer tigrato è ora la volta di un terra nova lo sciarpei vedete giriamo veramente il mondo qua e dall'oriente all'occidente dalla vecchia europa lo schnauzzer pepe sale lo schnauzzer pepe sale nel livello lo schnauzzer pepe sale allora io la Ecco la signora ha finito di osservare i vari soggetti, ripeto che vedremo il vincitore ancora tra poco per il best in show. Terzo posto per il boxer. Al secondo posto il terrier nero russo. Rivedremo al centro del ring per il best in show il Terra Nova. Grazie agli altri, grazie mille. Boxer, terrier nero russo, Terra Nova. Perfetto, grazie. Accogliamo il centro.